E' incrocio pericoloso di Ex, a cominciare dalle panchine al Città degli Ulivi, fra Bitonto e Gravina. Vicende d'anime che si alternano appassionanti nella vita come nel calcio, con motivazioni più o meno cogenti da ambo i lati. Da una parte i play-off nel mirino, dall'altra la salvezza da raggiungere all'ultimo respiro. Mister Valeriano Loseto elegge ancora a diga difensiva l'artista Petta e il diligente Danilo Colella. La posse Euclidea di Biason abbinata alla placida regia di Capecci Mediana, le sfuriate di Taurino e Triarico sulle fasce al servizio di Capitano Lattanzio. Il collega Pasquale De Candia cerca protezione ai ricami con De Gaulle e Bencalek. Il fraseggio sarà costudito nei piedi di Chiaradia, Cappiello e Cianci. Ne sortirà una pugna avvincente e palpitante. Dopo il doveroso minuto di silenzio, in memoria di Tarcissio Burgnic, la roccia degli azzurri a Mexico 70, al terzo punizione di Toschici dai 25, centrale. Due minuti e De Feo in scivolata, fuori bersaglio. Poco prima della mezza, Cianci si gira e calcia di destro, De Lucia si accartoccia e blocca. Al tramonto del tempo, la fierezza dei Leoncelli ruggisce in due occasioni. Al minuto 42, crossa a giro di Taurino che attraversa come un brivido lungo l'area giallo-blu. Allo scadere, contropiede vertiginoso nero-verde, Lattanzio per Triarico che scarica per Taurino, destro e sfera alta ad un soffio. Nella ripresa, subito gli ospiti pericolosi, commessori a giro, sopra la traversa. L'exio magistralis di geometria al quarto, dialogo inebriante, Biason-Taurino è destro che si infrange sul palo. 120 secondi e piazzato di Triarico, la barriera sporca della conclusione quel tanto che basta. Al minuto 11, il gol della vittoria gravinese. Punizione dalla tre quarti di destra di Toschic è, in un grappolo di uomini, testa di Perez Blanco che schiaccia sul prato il cuoio che poi si insacca nel 7. Al quarto d'ora, Allegra uscita all'epidotteri di Martellone, il cuoio vaga in area, Taurino si gira e calcia alto. Ripartenza a Celere del Gravina al 28esimo, palla a Ionai che non riesce ad inquadrare la porta a Bitontini. Minuto 37, doppio portentoso intervento di Martellone su Triarico a tu per tu. Al 39esimo rasoiata al volo di Biason da lontano, sul fondo. A tre primi dal 90esimo, destro di Tedesco, blocca sicuro l'estremo Murgiano. In pieno recupero, la capocciata disperata di Petta chiude un match non proprio fortunato per i Leoncelli.